Il mio cuore è il suorario e il suo nome è il suorario e il suo nome è il suo nome e il suo nome è il suorario. E' l'emirate, certo? Sì. E' l'arrivo degli emirates. Qatar... Vedi, puoi stoprire qui, ma solo due minuti, dopo che la polizia arriva... Allora, tu non ti sei mai che, non ti sei mai che, non ti sei mai che... Andi... Fuori. Qu'è un po' di là? Qu'è un po' di là? Grazie a tutti.